Secondo giorno del cammino Inca, destinazione Machu Picchu. Sono le 4 del pomeriggio, stiamo avanzando ad un ottimo ritmo io e la guida, ormai rimasti solo io e lui. Siamo con un giorno di anticipo rispetto alla marcia, quindi arriveremo a Machu Picchu il terzo giorno anziché il quarto. E questo è il cammino dei Quechas. O Inca. Sono solo in mezzo a questa valle stupenda. Stiamo adesso scendendo dopo aver raggiunto il picco più alto del cammino Inca, sono i 4200 metri sopra il livello del mare. Grazie. 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 Grazie.